Applauso ragazzi, signori, signori Grazie per la spazio di Giovanna Facciamo così, tutti insieme Tutti insieme, tutti insieme Bellissimi, bellissimi, grazie Vivi dentro, sei l'eterno Come un diamante nella mia mente Ciao ragazzi Hi everyone, hi guys Salo semuanya Welcome back to another video Selamat datang di video, video, video berikutnya Yes, ok, we're back on the road again We're back on the road again, teman-teman Adesso noi dobbiamo andare in Toscana Una paese si chiama Aisla Sekarang kita mau on the way ke Toscana Region di Toscana, Italia Di salah satu kota Namanya kotanya Aisla Aisla, right? Aisla Ok, perjalanan ke sana Makan waktu sekitar 3 jam 3 jam perandareli Ana, teguidando Sampai di Sol itu Istri nyetir Jadi aku bisa sirahat Ok, 3 jam teman-teman 3 jam menuju ke sana And we're so excited to be there I hope it's gonna be a good crowd Seperti biasa, like always I hope it's gonna be good Kitarra, ehm, crowd dancing Ok, then, yeah, we can't wait to be there Now we're going there You're not tired, right? No, no Super fresh Super fresh, super fresh I still with the vestiti Con le vestiti d'estate Masih dengan musim panas Ausfit Karena Ini udah pertanian September Tapi masih panas di Itali Ancora fa caldo Jum... Mesa septembre Pero... Strano Temperatura ya sempre Caldo Strano Hehehe Yes So We're gonna be there And... Let's go guys Follow us Like always, okay Join us, join us For another video Another vlog And another show With me Eki And Anna Bye Bye Great Bye 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 Grazie a tutti. 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 Sei stanca? No. Ok. Ok. Pistoia. Ok. 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 Let's go. Let's check in first. Hotel. Ok. 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 It's creepy. It's creepy guys. It's nice. Let's see the toilet. Hey. Ok. I need to wash my hands. It's not bad. Ok. Ok. Now we're check in. We're gonna do check in and now after that we're going around a little bit to the city. Take a look at the city and see the kota-kotanya. Kota Pistoia seperti apa. Toscana. abis itu kita cek sound ok, let's go anna ci siamo arrivati Pistoya guys, siamo arrivati a Pistoya qui è la città è così cute è una città vecchia, non è vero è anche una città turistica è una città, non è una città una mini Florence come in Florence bella 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 ora vogliamo fare cek sound abbiamo finito la città ora siamo arrivati a città ora siamo arrivati a città ok, let's do let's do the cek sound for the fashion show event fashion show event so I'm gonna sing for the fashion show here in Pistoya that's cool oh ah, it's a punto si 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 dobbiamo fare un pezzetto si proprio vieni, guarda di qua quindi magari la posizione dovete stare una sola? vuoi fare? si ma so meno cek più lontano si sta dalle dalle casse meno quindi qua il problema di rientro scelto ecco il punto che ho fatto lo 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 Ho detto prima! Resta ferma tra le onde, mentre penso a te Fuoco rosso, luce rondine Dall'i fuori soffino un vento molto debole Eccoci qua a guardare le nuvole Su un tappeto di fragole Resta ferma tra le condividere Resta ferma Noce qui se volante Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Allora, abbiamo avuto un ospite, un campione dei campioni di un format televisivo, però adesso passiamo al special guest di questa serata. Lui ha vinto All Together Now, il format condotto da Michelle Hunziker e con davanti un apopò di giuria, Francesco Renga, J-Ax, Rita Pagone e poi c'era anche Anna Catangelo. Lui è Echi. Buonasera a tutti voi. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. È stata bellissima, bellissima speranza, è un spettacolo che potevo vincere, ma veramente è una grandissima, grandissima esperienza per me. Ed è stato, sei stato bravissimo. Grazie a te che mi avete supportato sempre. E infatti, io ti ho supportato, ti ho intervistato il radio e ti ho portato qua. Veramente. E allora, è che ci fa ascoltare tre bellissimi brani, ma non ve li presento, perché tanto li sentirete e lui saprà che cosa fa. Dai! Grazie a tutti. Buonasera! Signore e signore, non vi sento. Buonasera! Eccolo, eccolo. Grazie, grazie. Allora, vi presento di nuovo. Io sono Eki. Se qualcuno ha guardato il programma, si chiama Oltugher, ma nel 2020 su Canoe 5, forse si ricorda di me. Io sono l'ibicitorio di coadrezione. Grazie. Grazie mille. Allora, sono molto contento di essere qui in questa bellissima serata. Vorrei ringraziare a tutti voi di essere qui. Ringraziare anche il comune di Pistoia, Elisabetta. Posso avere un grandissimo amore, Elisabetta? Signore e signori, buona. Bellissima, sei bellissima. Sì, sei bellissima. Grazie, Elisabetta. Grazie a tutti. È venuto qua da Milano, non proprio dietro l'angolo. Direttamente, sei bellissima, questa meravigliosa. E adesso me la dedichi la prima? Allora, io vorrei cantare una canzone che mi ha fatto vincere il programma. Appunto. Signore e signore, sentirmi cantare insieme a me. La canzone fa così. Maestro, ringrazio. Cantiamo insieme. Questa pezza si chiama Tappetta di Fraule. Oh, eh, eh. Resto per un pallione mentre penso a te. Fuoco rosso, luci e rondine Tra le foglie soffia il vento molto devolè Nel frattempo il fiore sta per nascere E eccoci qua A guardare le nuvele sul tappeto di fravole Come si fa a spiegarti se mi agito E mi rendo un rito in coloro Tu parlo, mi stringi oppure fingi di amarmi Una foto, un giallo di tutto quel che ho E non capisco se ridevole o no Qui trafitto sulla terra steso ne ne sto Aspettando di volare A tutti, eccoci qua A guardare le nuvele sul tappeto di fravole Come si fa a spiegarti se mi agito E mi rendo un rito in coloro Tu parla, mi stringi oppure fingi di amarmi Un bellissimo applauso ragazzi, signori e signori Grazie a voi Allora facciamo così Facciamo così Sulle mani insieme Facciamo così, tutti insieme Tutti insieme Tutti insieme Bellissimi, bellissimi Grazie Allora fatemi sentire Uno, due, tre Eccoci qua, più forte Eccoci qua A guardare le nuvele Sul tappeto di fravole Come si fa a spiegarti se mi agito E mi rendo un rito in coloro Tu parla, mi stringi oppure fingi di amarmi Geži amm chupi Geži amm chupi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 3. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 2, 5. 2, 3. 4. 4. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. E nel mio cuore, tra le mancerie, un sonno Non fa tre cose, l'inizio del mondo La fine di un giorno, lo spazio del tempo che scivola via All'abitudine, è un salto nel mondo Ti prendi la mano, ti spingi lontano, per lasciarti lì E allora provi a capire se c'è senso a tutto questo Mischierò di amarti, anche se non corrisposto Sarò lì, e ti difenderò Vivi dentro, sei l'eterno Come un diamante, nella mia mente L'epicentro, e nel mio cuore Tra le mancerie, un sonno Come? E dimmi almeno perché Provevi in giro, sento i tuoi rispiri, dimmi perché I tuoi silenzi parlano d'amore Amore Una ragione non c'è, eppure c'è qualcosa che mi manca a vola con me Naviglieremo il cielo senza ali Fino domani Vivi dentro Sei l'eterno In me Grazie mille Grazie mille Signore, signore Echi Adesso torni però Un'altra volta torni Sei troppo bravo Grazie Grazie Ancora un applauso Echi Grazie mille Grazie mille Allora, siamo giunti al termine Grazie a tutti voi che siete stati qui Insieme a noi In questa splendida serata Ringrazio tantissimo Tutte le modelle Gli ospiti che sono stati tantissimi Echi, Adriano e tutti i cantanti Matteo, la coppia bellissima di Sposi E poi Vera, sì, certo Beh E poi lo staff Parrucchieri Carmela Veronica Jessica Gaia Lo staff Dedicato al backstage Elena Martina E poi, beh, che dire Il fotografo Stando Nerucci E Cecilia Ricciarelli Mi sono anche incartata Cecilia Ricciarelli Branchetti Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti 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 Allora finito Tutto a posto Tutto bene Il spettacolo è veramente grandissimo Niente quindi Don't forget to subscribe Comment, like Grazie a tutti Ci vediamo al prossimo video Ok See you again in the next video Ciao 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 Vistoia! Vistoia!